Noi abbiamo un rapporto ormai strutturato con Più Europa, con cui siamo di fatto federati anche nei gruppi parlamentari e nelle amministrative. Con Italia Viva abbiamo lavorato bene a Roma, bravissimi amministratori che abbiamo eletto, con la ministra Bonetti abbiamo lavorato benissimo. Il punto fondamentale è che, come sanno tutti i commentatori, Renzi non vuole fare niente con nessuno, vuole gestire la partita del Presidente della Repubblica e poi vedrà. Il che non è legittimo, è legittimissimo. Dunque, porte aperte a chi vuole contribuire a costruire questo progetto, ma io non è che posso obbligare nessuno a farlo. E mi pare che il percorso di Italia Viva, delineato da Renzi, sia un percorso differente. Aggiungo e ripeto anzi, quando abbiamo lavorato a Roma con gli amministratori, i due amministratori che abbiamo eletto, sono molto bravi nei municipi, continueremo a stare insieme e così con Più Europa. Non c'è una preclusione. Io ho due temi che per me sono fondamentali. Uno riguarda che Renzi vuole fare altro e il secondo, come ho detto e continuo a dire, mia opinione personale. Non vuole essere un giudizio, lui avrà la sua. Io non credo personalmente che possano convivere in un leader politico, business privato e attività politica. Su questo, ripeto, lui quello che fa è legale, quindi è semplicemente una visione differente. Questo è quello che io penso. Dopodiché, ripeto, a Roma abbiamo preso i voti non perché ci siamo alleati con Tizio e Caio, ma perché per un anno siamo andati dappertutto con un programma serio, toccando i temi veri, parlando il linguaggio della verità. Questa è la politica, il resto non è politica. Tiziana